Oggi parleremo di come scrivere per il web, ok? Allora, perché è importante questo? Perché stesso lavoro, cioè scrivere delle notizie, pubblicarle online, può avere rendimento 1 o rendimento 10 a seconda di come sono scritte queste notizie. Che vuol dire? Non del contenuto in sé, ma della forma. Perché? Perché il grosso del traffico su internet viaggia attraverso i motori di ricerca. Questa penso sia un'esperienza che ognuno di noi ha avuto, per cui ognuno di noi può confermare, sì, se devo andare da qualche parte e non conosco già il sito dove voglio andare, vado su Google e scrivo qualcosa. È vero? Sì. Ok. Che cosa scrivo dentro alla casenia di ricerca di Google di solito? Delle parole chiave. Più semplicemente delle parole che in realtà corrispondono a una mia domanda. se io voglio arrivare su un sito per comprare una borsa, non scrivo pelletteria, scrivo borsa di pelle. per cui la differenza, quello che fa la differenza nel mio scrivere è scrivere per come si dovrebbe scrivere una cosa o scrivere perché le persone che cercano quella cosa riescano a trovarla. Si riesce a capire la differenza? C'è una bella differenza tra le due cose. Io personalmente sono partito, cioè io mi sono laureato in lettere, ho fatto questo master, ho fatto uno stage all'ufficio comunicazione del comune di Roma, dove c'avevo un responsabile che era una persona molto brava e competente e che era un letterato vero e proprio, nel senso che una persona con grandissimo amore per la lingua italiana e quindi ci teneva ad alcune cose. E quindi quando mi sono trovato a pubblicare online, a scrivere e pubblicare online, ho dovuto disimparare tutto perché ero abitato a scrivere per far vedere che sapevo scrivere e invece ho dovuto imparare a scrivere per far sì che anche chi non sa scrivere, magari neanche sa parlare, però ha un'esigenza possa trovare la risposta a quell'esigenza sulla quale io avevo scritto un articolo. Chi deve scrivere parole chiave? Cioè cerchi di... No, attenzione, non si tratta di scrivere per parole chiave perché i primi furbetti ingegneri hanno capito sta cosa per primi, cioè hanno detto, ma scusa, ma Google che cos'è? Ah, è un algoritmo di ricerca. L'algoritmo per cui non entra nella testa delle persone, ma utilizza le loro ricerche, le parole chiave. Allora, se io inzeppo un testo di parole chiave, cavolo, quel testo sarà cliccatissimo e trovatissimo. L'hanno fatto e Google l'ha sgamato, per cui alcuni all'inizio hanno avuto successo, per questo alcuni contenuti schifosi si sono piazzati molto meglio dei contenuti che invece c'entravano di più in meglio scritti. Però poi alla lunga Google, che cerca di capire come ragionano gli esseri umani per potergli dare risultati pertinenti, l'ha capito e ha perfezionato il proprio algoritmo per far sì che l'inzeppare addirittura possa essere penalizzato. Cioè, se io metto troppe parole chiave, se io scrivo in maniera ingegneristica, vengo penalizzato per keyword stuffing. Questo è il nome del reato davanti di Google. Per cui Google ti sgama, nelle linee guida te l'aveva detto, Google ha delle linee guida per essere indicizzati, e ti dice, non puoi fare il keyword stuffing. L'hai messo? L'hai fatto? Ok, io ti levo dai risultati di ricerca e tu sei fregato per sempre. Quindi vediamo come fare questa cosa. Parleremo di come creare un titolo ottimizzato SEO, che vuol dire Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca. Come fare un titolo ottimizzato per i motori di ricerca? Come scrivere un testo? Come utilizzare il grassetto e i paragrafi? Come inserire il link? E come scegliere le immagini? Quindi queste cose, come vedi, non hanno niente a che fare con le parole chiave. Anzi, qua, se dovessimo dire il grassetto e i paragrafi, ha più a che fare con la leggibilità, perché vi sarete accorti che leggere un testo sullo schermo del computer, su internet, non è la stessa cosa che leggerlo su un foglio di carta. Quindi ci vogliono una serie di tecniche di scrittura che corrispondono agli studi sulle abitudini di lettura che facilitano la lettura e rendono più piacevole quello che stai scrivendo. Questo materiale, non prendete appunti su cose che stanno scritte qua, nel senso che è già online. Ok? Quindi basta andare sul sito che vi dirò alla fine e lo trovate già lì, lo potete scaricare, metterci la vostra firma, rivenderlo a 1000 euro e tutto online, ok? Allora, il titolo ottimizzato per i motori di ricerca, il titolo è il primo elemento per posizionarsi. Lo capisco perché quando faccio una ricerca la prima cosa che vedo è il titolo delle pagine dove atterro. È vero? Non lo so, vediamo. Pasta, istruzioni per l'uso. Barilla, ricette di cucina, pasta e sughi pronti. Pasta Wikipedia. Questi sono i titoli delle pagine. Quello che chi ha scritto l'articolo, la pagina ci ha messo, dice guarda qua il titolo, appare qui in blu. Questa parte qua sotto è la descrizione della pagina, cioè c'è un campo quando io scrivo una pagina in cui mi dice che vuoi mettere come descrizione? E io scrivo. Se ci scrivo la Divina Commedia evidentemente non verrà visualizzata tutta, quindi sarà troncata. Per cui io quando scrivo la descrizione devo scriverla in modo che si veda chiaramente. Se non c'è la descrizione Google automaticamente prende un pezzo del testo della pagina, quello che secondo lui è più interessante. E l'indirizzo del sito? Perché andiamo a vederle su Google? Perché il primo rapporto, proprio quello sguardo, il flirt, con il mio articolo, la persona, il visitatore, lo farà su Google, non a casa mia. Quindi magari io sulla mia pagina posso mettere delle cose fantastiche, ma lui all'inizio avrà solo quell'assaggio lì. Quindi quegli elementi me li devo giocare bene. Nel titolo le prime 3-4 parole devono corrispondere a quello di cui parli. Quindi magari per la scrittura tradizionale tu hai imparato a fare titoli ironici, fichi che ti svelano quando sei arrivato alla fine del titolo l'argomento o che lo lasciano intravedere e poi nella lettura dell'articolo tu scoprirai di che cosa parla. Online non lo puoi fare, non lo puoi fare questo, o almeno se lo fai non avrai buoni risultati. Perché Wikipedia si posiziona molto spesso bene per gli argomenti? Perché per prima cosa mette il nome della pagina che corrisponde esattamente a quello di cui parla nella pagina. Quindi parla di basilico scrive basilico trattino Wikipedia quindi non è che scrive il condimento ideale per la pasta all'italiana perché io da essere umano quando leggo il condimento ideale per la pasta all'italiana capisco che sta parlando di basilico però il motore di cerca non lo capisce e a volte neanche il lettore lo capisce più di tanto cioè tra due risultati uno ci ha scritto basilico dentro e uno non ce l'ha scritto io faccio più volentieri clic su quello che ho scritto la parola che ho cercato vedete Google come oltretutto spinge su questo su questo aspetto guardate un po' pasta è scritto come barilla che c'ha di diverso pasta è grassetto chi gli ha messo il grassetto no l'ha messo Google quindi Google ti grassetta tutte le volte che la parola che corrisponde alla tua ricerca è presente in titolo e descrizione URL quindi URL è l'indirizzo del sito quindi qua mi ha grassettato ta 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 qua mi ha grassettato ta ta qua mi ha grassettato ta 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 wikipedia è pensato in un modo per cui la parola che è il topic della pagina l'argomento ricorre sempre in tutti questi tre elementi fateci caso sempre wikipedia inizia la pasta è come inizia la pasta o pasta alimentare è un alimento a base di semola o farina di diversa origine divisi in piccole forme regolari destinati a una cattura con calore cioè lui mi ha detto esattamente che cos'è quello che stava cercando e fa in modo che per come è pensato anche per come è strutturato tecnologicamente gli indirizzi siano indirizzi semantici quindi non quel la stringa con caratteri strani e commerciale uguale punto interrogativo 476 id avete mai visto quegli indirizzi fatti così? fa in modo che l'indirizzo si capisca sia scritto in italiano ti è c'è scritto basta nello scegliere le parole chiave quindi io devo capire come le persone chiamano quello di cui io voglio parlare facciamo un esperimento cerchiamo di identificare un argomento e estraendo diversi modi di chiamarlo prendiamolo dal giornale per il sì ah ecco no è una buona idea questa se io voglio dire questo qua come lo posso chiamare giornale o quotidiano le persone cercano più giornale o quotidiano come lo faccio a verificare con due statistiche di ricerca però no potrebbe essere un po' una fregatura perché quando io scrivo quotidiano magari io non mi sto riferendo al giornale potrebbe essere il caffè quotidiano il pane quotidiano potrebbero essere tante cose quotidiane la stessa cosa il giornale potrebbe essere il giornale radio quindi quindi su quella pagina sulla quale sono andato prima e sulla quale ritornerò volentieri stava qui sì eccola qua è sparita va bene la riprendiamo come si chiamava ve la ricordate le statistiche di ricerca insight ok ci vado sopra e scrivo quotidiano e scrivo giornale ok allora tutto il mondo non mi serve vado su Italia gli dico cerca Gino e lui mi dice è più cercato giornale che quotidiano sì ho capito aspetta un attimo fammi vedere guarda guarda caso Vibo Valencia è quello dove hai cercato più la parola quotidiano come mai il giornale si chiama quotidiano di Vibo Valencia ecco qua ecco qua il quotidiano fatto quotidiano quindi qua mi dà delle parole relazionate a quello che io ho cercato vado più su un caso reale così si avverte ancora di più noi dobbiamo pubblicare un articolo sulle castagnole quelle di carnevale come si chiamano le castagnole? le chiacchiere non so le chiacchiere sono un'altra cosa castagnole frittelle gli struffoli allora gli struffoli allora si possono chiamare castagnole zeppole zeppulas no quelle le bugie sono le chiacchiere le frappe sarebbe frittelle bignè bignè di San Giuseppe come dire sono diverse ma sono diverse perché per noi il bignè di San Giuseppe è diverso ma ci sono posti dove chiamano bignè di San Giuseppe la castagnola allora allora stessa cosa stessa cosa allora pensa alle frappe pensa alle frappe allora frappe chiacchiera bugia bugia allora come faccio io potrei andare su google per esempio dove la mamma mi ha insegnato che lui stesso quando io scrivo frappe frappa mi fa vedere alcune cose per esempio frappe ricetta no frappe al forno frappa vedi che lui ti suggerisce delle cose ci hai mai pensato a provare le parole correlate per esempio giornale giornale se io faccio spazio mi si apre un mondo fantastico cioè lui mi dice quali sono le ricerche correlate alla parola giornale e le mette in ordine di click no più che di click di ricerca chi dice sai chi l'ha inventato come chi sai chi l'ha inventato no dico sai chi l'ha inventato i ragazzi mi hanno messo prima su youtube no l'indiano non ne sapeva neanche come si scrive ah come si scrive ah il google instant dici ah ok ma ancora più bello questo è proprio cioè ti direi quasi spegni la telecamera perché questa vale proprio tantissimo se io metto una lettera dall'alfabeto tipo A lui mi dà tutte le parole che iniziano con quella lettera che sono relazionate al mio argomento se io metto B lui mi dà tutte le parole che iniziano con la B questo vuol dire che io mi posso creare una mappa concettuale dei termini di ricerca non so se se traspare la figata che ci sta sotto è un po' poco chiara è un po' poco chiara cioè è una cosa che a me mi fa allora questa è sempre diciamo sulla base di come tu vuoi far affarire la tua notizia il senso che ti fai una ricerca questo per capire per capire quale parola devo utilizzare per far affermare ok devo scrivere un articolo sulle frappe come lo titolerò questo articolo sulle frappe il forno potrei titolarlo per esempio dolci di carnevale due punti ricetta delle frappe secondo voi questo titolo è buono o non è buono perché a Giulio hai detto giustamente quindi io per esempio potrei pensare se c'è un'ambiguità rispetto al termine e io posso scrivere un solo articolo potrei scrivere chiacchiere frappe bugie due punti dolci tipici di carnevale 10 se voglio proprio essere fichissimo faccio frappe ricetta del dolce tipico di carnevale poi un altro articolo chiacchiere ricetta del dolce tipico di carnevale bugie ricetta del dolce tipico di carnevale non posso fare proprio copia in colla perché sennò rischio un'altra penalizzazione di google che è per contenuto duplicato cioè io non posso fare copia in colla secco di un articolo che già è pubblicato perché google se ne accorge quindi alla meglio se ne accorge l'autore mi scrive un email e dice senti poi ti mando il mio avvocato ma se non ti penalizza lui ti penalizza google perché lui se ne accorge e quindi di nuovo ti è scritto dei risultati lo scrivi te cosa hai scritto cioè tu hai scritto un articolo ok l'hai pubblicato io poi vengo sul tuo sito faccio copia in colla e lo ripubblico cioè scrivi sotto il nome dell'autore cioè lo scrivi che l'hai copiata non si può fare no no l'autore ti deve dire ok ripubbicalo ripubbicalo e dammi credito se l'autore non ti ha detto prima lo puoi ripubblicare e c'è tutti i diritti riservati lui ti può fare causa perché hai pubblicato ancora di più se l'hai pubblicato su un sito dove hai le pubblicità per cui hai pure guadagnato dei soldi col suo articolo quindi il copyright esiste ora poi io se l'autore lo mette sotto licenza creative commons e scrive puoi riprodurre questo articolo liberamente citando l'autore allora a quel punto ti ha dato l'ok lo riproduci citando l'autore ma lui ti deve aver anche dato l'autorizzazione a sfruttarlo per fini commerciali perché se hai utilizzato una creative commons non commercial 3.0 e tu lo metti su un sito dove hai le pubblicità stesso ti può fare causa ma io parlavo del copyright che è il mio tu parla? non c'è un artigo lo metto sopra e lo puoi ripetere neanche appunto perché lui dice ah furbo ma che fai cioè tre volte qua sempre il discorso è scrivere per le persone allora tu puoi fare una cosa il procedimento lo fai uguale gli ingredienti li metti uguali poi nell'introduzione la fai diversa e dici le zeppole sono un dolce tipo di carnevale alcuni le chiamano chiacchiere frappe e bugie e invece io le chiamo così anzi se vuoi essere proprio eccezionale quando dici alcuni le chiamano chiacchiere quel chiacchiere lo linki all'altro tuo articolo che parla della ricetta delle chiacchiere se scrivi tipo un titolo frappe altro che frappe ti sei rovinato vero? sì perché quelli del frappe te fanno no perché la lobby del frappe ok allora no ti sei rovinato perché hai fatto un titolo ambiguo no perché a chiappi sono quelli che hanno scritto frappe non è che gli a chiappi no attenzione perché questo è il primo pensiero io scrivo gli a chiappi frappe e bugie e così prendo tutti quanti non è così perché per questo ho detto che conviene farne uno per ognuno dei termini perché per google è più chiaro che tu parli proprio di frappe se no se no se non fosse così tutti metterebbero come fare i soldi e poi parlerebbero delle tasse cioè non funziona così tu devi parlare devi scrivere un titolo accordato con l'argomento che stai trattando realmente qua tutto il nostro sforzo è voi siete tutti laureati però la maggior parte italiana non è laureata lo sapevate? ecco quindi voi avete un modo di parlare diverso dalla maggior parte degli italiani un modo di scrivere diverso dalla maggior parte degli italiani se vi volete far leggere da quelle persone lì dovete dire ma come le chiamano queste ora per chiacchiere frappe e bugie abbiamo fatto così però veramente su alcuni termini questa cosa è incredibile io mi stupisco molto e trovo veramente persone la chiamano così vabbè chiamiamola così devo mettere queste tre parole all'inizio del titolo se poi voglio esplicitare in che termini ne parlerò posso utilizzare i due punti il trattino qua che ne so pasta istruzioni per l'uso se lui avesse scritto istruzioni per l'uso per cucinare la pasta sarebbe stato diverso e quella figatina che tu mi dicevi che non era chiaro è perché io posso scrivere pasta pasta metto il fantastico spazio e lui qua mi aiuta dice a Giulio vabbè pasta sei sempre il solito esagerato ma di che stai a parlare esattamente ma cioè io veramente volevo parlare di ricette per la pasta che lettera vado a mettere R ricette ricotta radicchio radicchio spec per esempio se io parlavo di pasta radicchio qua mi dice si radicchio e eh no c'è anche il gorgonzola allora dillo no quindi io posso chiamare se io scrivo un articolo e lo chiamo pasta radicchio e gorgonzola punto ho buona possibilità di posizionarmi per quella ricerca specifica secondo me eh io lo farei la farei sta prova e andrei su radicchio e gorgonzola vediamo se esce un articolo che ha secco quel titolo guarda caso pasta radicchio e gorgonzola pasta radicchio rosso e gorgonzola guarda caso escono per prime quelle che hanno quella esattamente quelle tre parole nel titolo questo lo posso rapportare a tutti giallo zafferano giallo zafferano no 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 allora questo vi è utile perché non solo i giornali pagano le persone per scrivere gli articoli anche le aziende allora io ho un cliente che fa formazione per la 626 ok si chiama www.csmcare.sarei te questo è il cliente questo cliente offre questi 4 servizi però sul suo sito vuole offrire anche un servizio di news per attirare i suoi potenziali clienti c'ha delle news qua le 5 news più recenti se io vado su news accedi al nostro servizio di news trovo le mie notizie rimozione dell'amianto in sicurezza orientamenti pratici del ministro del lavoro manutenzione sicurale nella pratica incentivi inail per la sicurezza allora cosa succede questo cliente mette la news dentro cioè dice oh a me sono usciti gli incentivi inail mette il link e mi manda un'email e mi dice ho messo una nuova news al che io dico all'editor guarda bisogna fare una news per CSM lui ci va sopra e applica tutti questi principi che ci stiamo dicendo per fare per verificare se questo titolo l'avete fatto bene per esempio io questi titoli li ho tutti cambiati rispetto a quelli che mi aveva detto lui lui aveva titolato per esempio questo orientamenti orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche a debole intensità dell'amianto esedi cioè ma secondo voi Google come lo vedeva sto articolo lo vedeva come se fosse orientamenti pratici per la determinazione tiè delle esposizioni a che? non lo vedeva proprio che c'era l'amianto qua abbiamo scritto rimozione dell'amianto in sicurezza perché l'esigenza per chi vuole trovare gli orientamenti è la rimozione dell'amianto quindi io te lo metto all'inizio e poi ti dico che sono usciti gli orientamenti pratici del ministero del lavoro tutte queste cosine qua io ve lo farei vedere ma si facciamolo ve lo vedere va vi faccio vedere che differenza fanno su un sito dove sta? ok prendiamo un arco bello ampio e gli diciamo qua 08 questo è un uno strumento di web analytics cioè uno strumento che dice che cosa succede ai visitatori su un sito prima il sito non esisteva è partito il sito e pubblicava le news qua abbiamo cominciato a pubblicare le news noi guarda che è successo impennata quindi stesso servizio lui invece di dire l'ho messa la pubblicava e succedeva questo dopo succede quell'altro perché cambiano i titoli e perché cambiano anche altre cose eh beh certo ok allora si può fare un test qua ho fatto un esempio quindi lui aveva messo una volta decreto legislativo e qua invece un titolo fatto bene stessa news qua piano piano si trasformerà news prima news dopo cominciamo a trasformare il titolo scusami la tua qual è la seconda o la mia? la mia è la seconda quella ho scritto ok eh lui la fa sbagliata perché non vuole eh però devo fare si può significare anche se io insomma cerco l'81-2008 no? l'evoluzione ovviamente mi esce prima quella e poi quella tua sì l'identificazione degli addetti nei cantieri ma io l'ho levata quella keyboard dal mio titolo no l'hai messa dopo ce l'ho messa dopo però ecco Google cosa legge? Google mi ha detto Google mi ha detto che c'erano più persone che cercavano identificazione degli addetti nei cantieri rispetto a quelle che cercavano aggiornamento del decreto legislativo 2008 addirittura la parola aggiornamento che prima era uscita invece era una parola cercata allora io l'ho tenuta perché comunque c'era non è che non c'era hai visto orientamenti pratici ho tolto pezzi interi stavolta l'ho tenuto perché c'era ma l'ho messo dopo perché c'era di più identificazione degli addetti nei cantieri identificazione degli addetti nei cantieri hai cercato di più che degli addetti legislativati in questo momento cioè in questo mese praticamente non in questo mese quando è stata fatta questa news chi non si ricordava il numero diceva ma qual è il decreto quello dell'identificazione degli addetti qua stiamo parlando il nostro pubblico sono persone che fanno questo lavoro quindi sono decisori aziendali responsabili di un'azienda che devono commissionare mandare in outsourcing in questo servizio della 626 quindi ma è uscito questo decreto ma qual è quello sull'intervention degli addetti di cazzo speriamo che non ci sia pagature andiamo a cercare su google che c'è tieni te l'ho fatto vedere per scrivere per scrivere un testo devo iniziare dal tema centrale dell'articolo e solo dopo spiegare il contesto io la chiamo la tecnica del tramezzino cioè tu puoi iniziare il tuo articolo così hai presente quando verso le 10 15 del mattino ti viene un leggero languorino avresti proprio voglia di fare un break ma non qualcosa di pesante o di energetico come il caffè ti andrebbe qualcosa che ti prepara a entrare in una nuova fase di lavoro prima del pranzo ma al tempo stesso ti dà l'energia e la salute della dieta mediterranea per questo sono sceso al bar e ho chiesto al barista dopo avermi salutato un buon tramezzino tonno e pomodoro ma quando me lo dici questo tramezzino tonno e pomodoro alla fine dell'articolo invece se tu inizi il tramezzino tonno e pomodoro con tonno pomodoro e maionese è il cibo ideale per spezzare la giornata infatti quando hai fame ai 10 e mezzo di mattino ti puoi dire tutte le altre cose Wikipedia fa così per esempio ti dice subito nell'introduzione di che cosa parla questo ti aiuta anche perché gli articoli che scriverai abbiamo detto se non c'era una descrizione assegnata Google prendeva un pezzo della pagina prende la prima parte e quindi in quella prima parte ci sarà in quella riga esattamente quello di cui parli non solo ma anche se altri siti che prenderanno il tuo articolo e lo riproporranno non so se avete mai sito parlare di Ok Notizie Digita Wikio o se posti un articolo su Facebook per esempio lui prende le prime righe dell'articolo che hai postato automaticamente quindi ti rendi più facile il lavoro e anche la viralizzazione di quella cosa che stai scrivendo nelle prime righe devi sempre dire quello di cui parli io ti consiglio di utilizzare un tono semplice cioè di non parlare noi voi noi abbiamo voi merdacce oppure cioè parlagli personalmente perché quella persona è sola non c'è un un auditorium dietro allo schermo c'è una persona singola che sta facendo le ricerche per cui se gli parli tu a tu per tu rendi tutto più semplice semplice anche evitando di farlo sentire uno che non ha studiato uno che cioè dimmi quello che mi devi dire e basta è come se fossimo seduti al bar non è che mi permetto di introdurti questo tema cioè dimmi dai ti consiglio di formulare frasi brevi e utilizzare molto il punto fermo quasi sentenze secche è uscita la nuova legge 81-2008 punto la nuova legge aggiorna la precedente legge punto le novità maggiori sono queste e utilizzare le parole chiave che sono state utilizzate nel titolo anche nel testo una cosa che mi insegnava la maestra che mi correggeva sempre con la matita rossa era l'hai già usata nello stesso paragrafo questa non la utilizzare trovo un sinonimo e dagli giù col dizionale sinonimo a volte si cerca anche di dirlo se non c'è un sinonimo facendo tutta una perifrasi allora no hai capito quale parola è? cioè ha deciso di chiamarle frappe? chiamarle sempre frappe se no generi confusione alla persona che anche questo non è per il motore è proprio per la persona che ti legge a volte uno si perde il passaggio per cui ti stai riferendo al stesso soggetto facciamo un esempio allora qua mi dice il ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul proprio sito un nuovo aggiornamento del decreto legislativo 81-2008 poi ci mette una citazione in particolare il testo coordinato nella versione datata a settembre 2010 è aggiornato con le note introdotte per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 13 sto morendo qua non c'è un punto fermo in 3 righe no in 4 5 righe cambiano le regole sull'identificazione degli addetti nei cantieri addetti nei cantieri che c'era prima punto il decreto legislativo 81-2008 è stato aggiornato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali punto ecco un breve estratto due punti e ti metti l'estratto di quello che era il tuo testo